Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il mondo televisivo è in lutto per la prematura scomparsa del noto conduttore televisivo che ha lasciato un'impronta duratura nei cuori del pubblico. La sua morte è stata provocata da una coraggiosa lotta contro il cancro, una battaglia che ha affrontato con forza e determinazione. La notizia della sua dipartita è stata comunicata dalla sua famiglia tramite un commosso post su Instagram, chiedendo rispetto per la loro privacy in questo momento di dolore e riflessione. La sua prematura scomparsa avvenuta a soli 50 anni, ha colpito profondamente amici, familiari e fan. Irwin, figura nota nel panorama televisivo britannico per molti anni, ha lasciato un vuoto nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto attraverso lo schermo e oltre. La carriera di Johnny Owen è stata caratterizzata dalla sua passione per la televisione, ma la sua vita è stata drasticamente influenzata dalla sua battaglia contro il cancro. Nel 2022, aveva rivelato di essere stato licenziato da E-Plus in the Sun dopo 18 anni a causa della sua diagnosi. La sua storia rimarrà un esempio di coraggio e determinazione nel mondo dello spettacolo britannico.